Sono ben tre le commissioni consigliarie del Comune di Prato che nella stessa giornata, martedì prossimo, si occuperanno dell'abbattimento dell'ex ospedale alla luce della revoca da parte della Stoscana Centro dell'aggiudicazione provvisoria al primo classificato della gara d'appalto a favore del secondo per non aver dichiarato due condanne penali di una ditta subappaltatrice. Possibili ricorsi giudiziari e di conseguenza ulteriori ritardi nell'esecuzione dell'abbattimento ma anche l'eventuale aumento dei costi saranno al centro dell'attenzione delle commissioni 3, 4 e 6 rispettivamente lavori pubblici, urbanistica e controllo e garanzia. Le prime due sono guidate da esponenti della maggioranza Luca Roti e Massimo Carlesi e si riuniranno in seduta congiunta all'inizio della mattinata. La terza aspetta l'opposizione rappresentata nello specifico da Rita Pieri di Forza Italia. L'incontro inizierà alle 13. Martedì quindi sarà una corsa a chi ne saprà di più sul destino di questo progetto a cui è legato indissolubilmente e quello del parco urbano fortemente voluto dall'amministrazione comunale per riqualificare l'area ex ospedaliere e farne una porta per il centro. Finché Misericordia Dolce resterà in piedi, il Central Park in Salza Pratese sarà solo un progetto sulla carta. Tutte e tre le commissioni ascolteranno il responsabile dell'area tecnica dell'Astoscana Centro Gianluca Gavazzi e un membro dell'ufficio legale della stessa azienda sanitaria, Repetita Juvant.